buongiorno a tutti oggi incontriamo giorgio pirazzini pubblicitario e scrittore come come si definisce lui stesso buongiorno buongiorno paolo grazie mille dell'invito grazie a voi perché oggi parleremo di un'iniziativa che si chiama solar moving particolarmente interessante in ambito di mobilità elettrica innanzitutto lei giorgio ha organizzato questa iniziativa insieme a un suo socio vuole introdurre chi siete perché vi è venuta questa idea siamo due vecchi amici interessati di mobilità sostenibile e siamo resi conto che finalmente la tecnologia nuova della dell'auto elettrica dà la possibilità ai guidatori ai piloti di spostarsi a zero emissioni o comunque in un modo sia molto molto più sostenibile e allora il mio socio paolo che è melandri che è un ingegnere specializzato nel fotovoltaico ha avuto per prima volta l'idea di organizzare un tour d'italia a zero emissioni con la macchina elettrica caricata a energia rinnovabile e io mi occupo della parte di comunicazione mi è piaciuto subito il progetto e allora ci siamo messi al lavoro e abbiamo coinvolto molte personalità da intervistare durante quello che sarà il nostro giro d'italia e così noi partiamo e si parte domani domani sabato 31 luglio perfetto sabato 31 luglio partirete in questo viaggio elettrico si chiama solar movie l'iniziativa e magari entriamo un po più nel dettaglio di innanzitutto quali tappe contate di coprire e poi siamo anche curiosi di conoscere con quali persone farete questo viaggio quali sono le persone che andrete a intervistare ecco come ti dicevo saranno molte molte persone e abbiamo cercato di avere un ventaglio di personalità con le competenze più disparate domani andiamo andiamo a bologna a intervistare lorenzo benti che è uno psichiatra infantile per capire il valore della sostenibilità sin da bambini come educarla incontriamo barbara antonioli la professoressa barbara antonioli nei lì di ferraresi che è un economista specializzato e rinnovabili vogliamo capire quanto è realistico per l'economia andiamo in piemonte vicino nelle alpe vicino a torino a intervistare luca mercalli il clima togli famoso climatologo che ci parlerà del salire in montagna come si chiama il suo ultimo libro andremo a milano con tre personaggi con titano guardini che ha uno stilista specializzato in moda sostenibile con valerio visintin il critico gastronomico al corriere della sera e con martina comparelli la portavoce di fridays for future da milano ci sposteremo faremo un grande viaggio per dimostrare che l'auto elettrica può fare grandi viaggi e andremo in calabria negli impianti del nostro a ricaricarci negli impianti del nostro partner tecnico plt pur green il fornitore di energia al cento per cento rinnovabile e da lì incontreremo anche i tracker di va sentiero che è un gruppo che fa l'italia a piedi risaliremo e andremo in trentino per cui anche qui una grande cavalcata a incontrare marcello cesena che è un grande regista e pubblicitario di cinema e anche un attore comico un personaggio che fa un attore comico con mai dire golla e finiremo con fabio zaffagnini l'inventore di rock in one thousand la più grande band rock band del mondo di un di mille spettatori a cesena e come ti dicevo qui visiteremo anche degli impianti fotovoltaici impianti eolici del nostro sponsor e continueremo sempre a ricaricarci a energia al cento per cento da fonti rinnovabili ecco un'iniziativa come dicevo molto interessante anche il format con cui intervisterete tutte queste persone vogliamo però conoscere qual è diciamo l'obiettivo finale vostro semplicemente dimostrare che si può fare muoversi in elettrico anche per viaggi lunghi sensibilizzare la per la popolazione diciamo quali obiettivi vi ponete con questa iniziativa noi vogliamo dimostrare vogliamo promuovere la mobilità sostenibile e dimostrare che adesso è un'opportunità concreta che si può che si può che si può afferrare si può avere energia elettrica da fonti rinnovabili e adesso le automobili hanno finalmente una tecnologia per cui un'automobile elettrica è a una 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 capacità veramente quasi simile a quella della benzina ed è molto molto più sostenibile perfetto allora noi vi seguiremo come media partner in questa in questa avventura con un po di anche invidia perché insomma vedrete visiterete parti del nostro paese che tutti ci invidiano e quindi vi facciamo tanti auguri grazie mille grazie mille di aver accettato di viaggiare con noi come come media partner va bene arrivederci alla prossima giorgio buona giornata grazie